Inter, Lukaku polemico sui social, quando l'odio. Nuovo episodio della telenovela Lukaku dopo il tradimento nei confronti dell'Inter, il centravanti belga ha espresso il proprio malcontento sui social. Il caso Lukaku-Inter si infittisce ancora di più dopo il tradimento del gigante belga nei confronti della beneamata. Il nativo di Ambersa avrebbe provato a fare un passo indietro per riallacciare i contatti, ma si sarebbe scontrato sul muro eretto dalla società nerazzura. Adesso, un nuovo capitolo della saga che arriva direttamente da un post sui social di Lukaku, quando l'odio non funziona, iniziano a raccontare bugie. Romelu Lukaku si è sfogato così sui social dopo giorni di indiscrezioni e rumor sul suo futuro, ancora sospeso fra Inter e Juventus quando siamo ormai arrivati al 23 luglio. Intanto, il centravanti belga è rientrato al Chelsea dal prestito in maglia nerazzurra della passata stagione. Lukaku, che si era promesso sposo all'Inter per il suo terzo matrimonio, ha smesso nel weekend scorso di rispondere alle chiamate provenienti da Milano e composte da dirigenti, allenatore ed ex compagni di squadra, assai indispettiti dal suo comportamento. L'avvocato Ledure e la madre del belga Adolfine potrebbero aver avuto un ruolo importante nella vicenda. Sarebbe stata lei, stando alla Gazzetta dello Sport, la regista del tradimento all'Inter.